buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video parleremo del duecento duesimo non ricordo con esattezza comunque parleremo dell'episodio di angry dragon vedremo che cosa potremmo fare qui va bene vedremo eccoci qui ragazzi nel 200 duecento tresimo duecento tresimo giusto episodio di angry dragon andiamo a riscuotere la ricompensa apriamo l'uovo bello livello 22 giusto purtroppo non lo sappiamo se riusciamo arrivare al livello 23 in questo episodio mi hanno retrocesso oppure ti sei piazzato a no va bene benissimo adesso andremo a svelare i tesori vediamo ragazzi ok giochiamo non vedo l'ora di più raga che giochiamo angry shark evolution è uscito il nuovo squalo ragazzi si chiama il beemote ricordate i trailer che vi avevo fatto vedere poi guardiamo il nuovo i nuovi trailer prima poi di iniziare ma quando faremo angry shark evolution però stiamo facendo angry dragon duecento tresimo episodio allora oh dai per favore la finisca con sto bug ah da questa parte poi ci sarebbe clash royale 2 41 41esimo episodio vediamo se ancora la sfida delle arrene c'è si ma non ci arriveremo a vincerle tutte perché i giorni purtroppo potrebbero scadere ah di più so da quella parte pare di sì e quindi andiamo da quella parte questo è Cthulhu ragazzi questo è Cthulhu ragazzi è c'è la c'è la c'è l'e Ah, che dito 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 258 Lago scuro Qua per forza devo farlo ragazzi Nel luogo in cui abitano Gli alieni Qua esattamente Visto quella è la loro nave Ci osservano Si sono adattati Per vivere qui sotto Certo, guardateli come ci guardano A saranno goreoso Grazie. 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 296. 303. Devrei mangiarne un'altra dozzina. Dai che ci arriviamo. Sì, troppo pochi. E questi sarebbero pesci. Guardate, un mostro. 310, dai altri 10 ne mancano. Aspettate che usciamo di qua. Grazie. 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 Ok Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qua sopra dobbiamo andare, ragazzi. In caduta libera. Grazie a tutti. Ne mancano soltanto alcuni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vai. Grazie a tutti. Quando il gioco fa così non lo sopporto proprio. Che deve andarsi a bloccare. Non lo sopporto. Ma cosa? Ma l'avete visto quel troll? Si crede tanto furbo, ma io lo sono anch'io. E vai. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.